Lei ha fatto una domanda e si è dato una risposta. Se siamo in grado di andare avanti, si va avanti. Se non siamo in grado, noi come Italia Viva non siamo più interessati a stare al governo. Perché noi non siamo come gli altri che per mezza poltrona stiamo aggrappati. Noi stiamo al governo se possiamo dare una mano. Quando diciamo che ci sono 209 miliardi da spendere, stiamo dicendo che c'è una cifra pazzesca che pagano i suoi figli, i suoi nipoti, i miei figli, i miei nipoti. Anche quelli che ancora non ci sono, perlomeno. Non credo di avere nipoti. E quindi di conseguenza il punto fondamentale che abbiamo di fronte a noi è se si può andare avanti, si va avanti. Noi siamo felici di andare avanti, ma lo facciamo sui contenuti. Non ci schiodiamo dai contenuti. Ci sono 273 morti medici per il Covid. Qualcuno può dire che non servono i soldi per la sanità. Presentatemi uno che mi dica che non servono i soldi per la sanità. Presentatemelo uno. Dice una cosa diversa, dice che ci sono condizionalità. Evidentemente non ha letto bene il documento del MES e non sa che il Recovery Fund ha molte più condizionalità del MES. Però come lo capite se queste condizioni sono...